All'Eureka Park del CES di Las Vegas quest'anno ci sono 50 start-up tecnologiche che rappresentano l'eccellenza italiana. Le ha portate TILV, il primo digital hub del nostro paese. Grazie al lavoro compiuto con Teorema Engineering e Area Science Park e AL patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. Un decisivo scatto in avanti questo compiuto dal nostro paese che l'anno scorso ha assistito in poltrona, senza portare nessuna Realt, ai successi della delegazione francese. La seconda per dimensione quest'anno ha colto l'occasione per il riscatto. Cosa ha commentato Michele Balbi? Presidente di Teorema. Si parlato troppo dell'isolamento delle nostre imprese o addirittura dell'assenza sul piano globale. Abbiamo eccellenti imprenditori, pochissimi riconosciuti in tutto il mondo. Ci siamo impegnati per cambiare questa situazione e abbiamo ottenuto uno spazio importante. E questo solo uno dei passi indispensabili per dare rinnovata competitività alle nostre aziende. Insieme all'inserimento di competenze tecnologiche e digitali in particolare, che non pupi attendere. L'idea è quella di estendere le potenziali dei prodotti tradizionali con i nuovi componenti digitali. Integrare nei processi produttivi i nuove modali cooperative e aiutare le aziende a raggiungere nuovi clienti. Grazie alla rete, ai nuovi Davis, ad IoT, la prima missione italiana evidenzia anche il frutto positivo della collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Infatti la missione ha trovato sostegno da parti di associazioni e imprenditori. Il comitato promotore è composto da TILV, Teorema Engineering Area Science Park, Unicredit Start Lab, Italia Startup, l'associazione che raggruppa primari incubatori italiani, acceleratori e start-up, e Novia e Industrio con la collaborazione di APSTI Associazione dei parchi scientifici e tecnologici italiani. Il supporto della CRI Conferenza dei Rettori delle University Italiane. E la segreteria organizzativa curata dal World Trade Center Trieste. G. citatò il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. Mise. E vede la collaborazione dell'Istituto del Commercio Estero. ICE. La selezione delle start-up stata curata da esponenti di rilievo del mondo della ricerca e dell'innovazione fra cui il professor Maurizio Fermeglia, magnifico rettore dell'Universite degli Studi di Trieste, e il direttore generale di Area Science Park, Stefano Casaleggi. Qui di seguito l'elenco completo. Le 50 start-up italiane a CES 2018 o Agricolus un ecosistema di applicazioni cloud per l'agricoltura di precisione per ogni necessi. Avanix progetta e sviluppa dispositivi elettronici indossabili e wireless che puntano a migliorare la qualità della vita e semplificare l'interazione tra le persone. Belt Map e il Google Maps per persone non vedenti e ipovedenti che permette di orientarsi grazie a vibrazioni e a segnali audio. Bluebrake sviluppa sistemi di controllo elettronici per assistere il ciclista durante la manovra di frenata. Egoelt si occupa di sviluppo, produzione, ingegnerizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito biomedico. Emoi utilizza tecnologie avanzate di emotional data analytics ed intelligence capaci di attivare reazioni in tempo reale dello spazio e fornire servizi integrati al cliente. Events è la più grande piattaforma che permette di trovare eventi in tutto il mondo. Gipstech sviluppa e commercializza tecnologie di microlocalizzazione, puntando a estendere la localizzazione oltre la portata del GPS. Graffiti for Smart City si occupa di ricerca e innovazione per prodotti architettonici che combinano soluzioni tecnologiche volte a rivitalizzare gli spazi urbani delle grandi CIT. E-Ride sviluppa innovativi ammortizzatori elettronici per mountain bike e bike, biciclette da strada. Io OTA vuole diventare il punto di riferimento per un nuovo concetto di assistente domestico. IOT Innovations LPD la prima azienda accreditata da Tim IOT Open Lab ed opera nella sempre P. Critica area dell'Internet of Things Indigo è una piattaforma di IA che utilizza chatbot e machine learning per automatizzare esperienze personalizzate tra aziende e clienti. INAAS crea agenti intelligenti per risparmiare tempo e semplificare i processi. Di qualsiasi tipo essi siano. L'UMI Industries una vera e propria rivoluzione nel mondo della stampa 3D. E non solo. Per generare benefici alla portata di tutti. Maier ha creato un prodotto disegnato sulle esigenze del cliente. Che interagisce con i loro desideri più semplici. Come controllare la posizione della propria autovettura. Gestire le trasferte lavorative. Verificare il livello di carburante e controllare che non ci siano guasti e anomalie. Netgrid offre l'IOT a supporto dei motociclisti. A Las Vegas presenta Wolf. Il primo dispositivo indossabile in grado di avvertire i motociclisti con largo anticipo rispetto alla presenza di punti pericolosi e tratti stradali in cui la velocità deve essere controllata. NUWA Technologies presenta a Las Vegas la piattaforma di servizi web social che collega professionisti e artisti nel mondo della musica a livello globale. Officina opera nel mondo dell'innovation technology con focus sulla gamification. A Gageman, coinvolgimento e motivazione delle persone. A Las Vegas presenta la sua social app di event sharing. Proxy 42 progetta e realizza piattaforme di gioco per smartphone sfruttando la moderna tecnologia. Delle realtà aumentata, per permettere agli utenti di organizzarsi e incontrarsi virtualmente e fisicamente attraverso community di gioco. Community, recumira e individuare pericolosi disturbi del sonno come OSAS, sindrome da apnea ostruttiva del sonno, e migliorare la qualità della vita di milioni di persone. Chargeman risolve ed evolve il concetto di ricarica elettrica per i possessori di veicoli elettrici. Offrendo la possibilità di connettersi l'un l'altro in tempo reale via web o app mobile. Spiro Grau nasce con l'obiettivo di selezionare i superalimenti del futuro e nella forma P fresca e pura possibile, garantendo un controllo diretto della qualità della produzione con l'aiuto delle moderne tecnologie. A nostra disposizione, Upsense sviluppa prodotti che migliorano la qualità della vita con un'avanzata tecnologia del benessere. Verso One un anello interattivo che, grazie a una serie di sensori inerziali, permette di acquisire i movimenti e gesti delle dita e della mano con un'accuratezza e una velocità molto elevate. Vinoled produce kit tecnologici per rendere smart borse e valigie. Con una tecnologia composta da quattro funzionali. Luce LED per illuminare l'interno della borsa. Carica batteria wireless per ricaricare i device. GPS per localizzare e mappare i movimenti della borsa. pulsante SOS per inviare un messaggio di aiuto. Vision Lab Apps specializzata nello sviluppo di software per la realtà aumentata e gli smart glasses. IAPU microveicolo self-driving per le consegne a domicilio in CIT in tempi record. Zeus sviluppa smart wheel, ruote intelligenti che aiutano i veicoli a trazione umana ed elettrica.